Allora, visto che ti manca la fregna, quel gran topo, io penso a te, tu pensi che io non pensi a te, ma siamo ancora nel reaction time. E guarda caso, oggi ho intravisto un video che secondo me ti può interessare, che parla di Lucilla Giggly, come cazzo si chiama? E' una toponas e ci parla della mia casa a Tokyo, 25 metri quadri, io non l'ho visto questo video, io non la seguo questa qua, però so che fa Holyfans, fa i video dove dice, no no io porto cultura, allora si mette là e parla di Caravaggio e fa, Caravaggio è proprio bello perché faceva il cielo scuro con la finestra aperta. Ed è palese che tutti quanti stanno lì solamente perché c'ha du bobones così a favore di camera, però no no, lei fa cultura, fa cultura, la conosca è la ragazza di Mangaka, esatto esatto, è lui, laureata in storia dell'arte. Questa è la nuova Sgarbi, ragà, è la nuova Sgarbi, Sgarbi ormai è finito, lui capra capra, noi abbiamo bisogno delle boobes. Buon salve. Oddio chi sei tu, sei cambiata! Ma è diventata, è stranissima, ma gli fa male il Giappone all'usilla, ma la ricordavo carina questa qua, è diventata strana. Io la seguivo solo per l'arte, non sto scherzando, le sue live erano belline, sì sì, anch'io la seguivo per l'arte. Comunque, si è imbruttita, è stroccata forse. Comunque, maglietta di Lamu, top, grande, grande l'usilla. No, come li hai chiamati? Cari tortellotti, quindi quel gran topo eri un tortellotto, visto che la seguivi? Tortellotto, quel gran tortellotto, sei? Come promesso è il contur della mia casetta a Tokyo. Andiamo, andiamo, la casa in Giappone. Eh, guarda, me le tolgo, guarda, me le sto togliendo, l'usilla, l'ho fatto, stanno qua, sono rispettoso, Giappone, Giappone. Giappone, le case, già di queste dimensioni, sono considerabili abbastanza grandi, perché... Ma è un buco di merda, 25 metri quadri. 70 barra 100 metri quadri. Sì, vabbè, sì, cazzo, siamo abituati a 70, 100 metri quadri, quando te va bene, 50 metri quadri, un monolocale, più che so. In Giappone, visto che c'è una densità di popolazione molto molto alta, come ad esempio a Tokyo, ovviamente gli spazi sono più ristretti. Però, come vedete, è tutto... Vabbè, quindi sarà tipo l'appartamento intelligente, ve lo ricordate? Quello l'ha con Renato Pozzetto, no? Chi era? Era lui, quello lì dove tu entri. C'è tipo il letto a muro, che poi si chiude, diventa l'angolo cucina, che poi diventa anche l'angolo restaurazione. C'era questa casa che aveva un sacco di angoli. Eri un tortello, eri un tortello, maledetto. Tortellino, quel gran tortellino, d'ora in poi sarei chiamato. Qua, come vedete, c'è l'angolo letto, si trova proprio davanti alle finestre, quindi la cosa che mi piace... Quindi tu entri in casa, la prima cosa c'è il letto. Il mio appartamento è che è molto luminoso. Unica pecca, siamo al piano terra, quindi come potete vedere, le persone se passano ci vedono. Ma è una cazzo di gabbiola per portieri questa, l'usilla. Noi napoletani non ci siamo inventati niente, guarda i giapponesi. Poi dicono i vasci a Napoli, perché i giapponesi non fanno la stessa roba? Però è un po' una merda. C'è la gente che passeggia su marciapiede, tu immagina, ti giri un attimo in finestra e trovi l'usilla Giggly che sta facendo il nuovo servizio di Holy Fan, tutta spoppata. Penso che è bello vivere a Tokyo a questo punto, no? E a volte, insomma, vogliono scuriosare. Eh, vogliono scuriosare. Quindi se ti tiri un segone e ti guardano, uffa. Eh, meno che non tiri le tende, penso. Smesso di fare live perché tutti la trattavano male. Percato, era brava. Come tutti la trattavano male? No, l'usilla! No, povera, piccola, ti hanno trattato male. Perché? Che è successo? Per questo sei andata via in Giappone. No, per me l'usilla Giggly. È la nostra Flavia Vento del 2024. Conoscete Flavia Vento? È l'usilla Giggly. Quale? ...garbo perché sono giapponesi, quindi non è che sono troppo invadenti. Qua c'è... Ah, spiano ma con garbo, eh, capito? Cioè, non fanno vedere che se lo fanno in mano mentre stanno lì a spulciare dentro casa tua. E poi ovviamente la parte preferita della casa, ovvero questa. Questo appartamento fa parte di una... Cazzo di murale. ...con arte contemporanea. Questo murale... Tanto contemporanea non mi sembra. Cioè, c'è un cazzo di dragone antico, bicentenario lì. Dragon Ball. Se la vuoi chiamare arte moderna, ok? Vabbè, però lei è laureata in storia dell'arte. Quindi mi chiavo sta lingua in culo e dico che c'ha ragione lei. Vedete, non è una stampa. Cioè, è veramente disegnato sulla parete. Wow! In questo caso abbiamo un dragone. Il mini appartamento ho anche preferito, per questo motivo. Qua abbiamo di fronte un palazzo... Perché? Perché sei patita d'arte, vero? Chi è Flavia Vento? Aspetta, non sai chi è Flavia Vento? Aspetta, ora la faccio vedere Flavia Vento. Dimmi se non è uguale all'usilla Ghigli, ma proprio per quantità di neuroni, secondo me. Flavia Vento era una showgirl, anni 2000 più o meno, e faceva sto show insieme a Teoman Muccar. Era la televisione quando provava a sperimentare, fare cose nuove, tipo gli scherzi telefonici. E c'aveva una valletta, invece di tenerla a fare, che ne so, fare il balletto, fare la presenza così. Non la teneva sotto la scrivania, però la scrivania era tipo trasparente. Quindi lei era la classica ragazza da scrivania. C'ha pure il palo. Signori, è arrivato il grande momento dell'esibizione. Quiz musicale in premio Flavia Vento! Cioè, in premio era Flavia Vento, cioè te la davano sacrificio così. Guarda, guarda, è l'usilla. L'usilla, guarda pure come parla. Bene, te? Bene, bene. Allora, Flavia Vento, lo possiamo dire, ogni tanto ci regala una barzetta scritta da Lemia. Vai, vai. Preparato? Una barzelletta carina. Sì, allora, prego, veloce, forza, leggiamo una barzelletta, forza. Allora, c'è un aquilotto che vola, vola, vola. Un falco, un falco. Scusa, si dimentica la cosa, l'aquilotto. C'è un falco che vola, vola, vola e vede un topolino piccolino. Allora sta andando impicchiata. Eh, lo vede? Fa oddio, no, l'ho già letto. Ecco, bellissima, questa qui la barzelletta. Cosa sai fare ancora? Le imitazioni. Vai, vai, Flaviona, vai. Stupiscici. Le imitazioni, vediamo, vai. Che cos'è questo? Cos'è? Che cos'è? Il pesce rosso. Perché è rosso? Scusa, il pesce è qualcosa che... Perché sono tutta rossa. Ecco. E poi... Sì, sì. È tutta rossa perché è imbarazzata. Questo è un pesce ciccio. Pesce palla. Bravo. Ecco. E questo è il pezzo forte. Che cos'è questo? Un pesce deficiente? Che cos'è? Che cos'è secondo voi? No? No. Secondo me è la connessione internet di Mangaka quando provava a videocchattare con Lusilla la prima volta. Pesce fritto. C'ero quasi. C'ero quasi. C'ero quasi. Comunque... Dai. È uguale. Lusilla e Flavio Avento. Sono confuso. Madonna conosca quella di Tom Cruise. Madonna che ansia sotto la scrivania. Sì, sì. È lei. È lei. Era quella lì che era convinta anche di aver chattato con Tom Cruise e che la volesse sposare. Sì. È più o meno. Lusilla Ghigli mi dà la stessa vibes di Flavio Avento. Il matrimonio di Hilary Blasi e Totti sembra essere finita per una relazione extra coniugare con ella. È la vita a Totti che si faceva Flavio Avento. Siamo di fronte a un palazzo, cosa che accomuna molti appartamenti. Ah, è un palazzo. Non mi piace tantissimo questa cosa perché mi sento tipo un po' bloccata. Però nel senso... È un palazzo. Vedo la luce, vedo il piazzale con le persone... Vabbè, diceva, non guardo là, guardo là, quindi t'ha posto. Ma stai comunque al primo piano, stai una cazzo di guardiola di un palazzo, Lusilla, cioè sei una portinaia. Che passano. Oltretutto vorrei farvi vedere una cosa. Ossi, vedi quella macchina. Le macchine, diciamo... È bruttissima. Sembra disegnata da Toriyama. Quando poi le vedi negli anime, queste macchine, dici, ma sembrano tutte squadrate, tutte così... Effettivamente lo sono. Hanno questa forma molto quadrata. Eh. Questo non è un caso, ovviamente. Hanno questa forma proprio perché in questo modo lo spazio viene utilizzato nel migliore dei modi. Ma dai, hai capito come sono precisini i giapponesi? Giocano a Tetris, pure quando vanno a parcheggiare. Nel palazzo davanti a loro vive Bobes. No, purtroppo non vivo in Giappone, quel gran topos. La macchina di Dr. Slump. È vero! È la macchina di Dr. Slump. È uguale. Aspetta, aspetta. Eh sì, è lei. E guarda. È lei. È uguale. Sembra più un maggiolino, magari, quella lì del Dr. Slump. Però sì, ci somiglia tantissimo, effettivamente. Hai ragione. Quando alle ciance vi faccio vedere adesso l'armadio. Questa è la mia parte. Wow! Treno, perché siamo vicinissimo. Siamo vicinissima alla stazione, ecco, assolutamente. Ah, non ero un hype train! Se quattro minuti appieghi alla stazione vuol dire che arrivi dappertutto subito. Verissimo. Verissimo. Ragazzi, mi raccomando, se andate in Giappone, pensate alla comodità. Semplicemente cercate i mezzi pubblici. Comunque, questa è... Pensate alla comodità quando andate in Giappone, raga. Mi raccomando, sempre le cose utili vicine a voi. Sempre. Sempre. Soprattutto... Fazzoletti. È la mia parte, il mio angolino. Qua ho messo i vestiti. Ormai ci sta mangacaruto. No, no, spero di no. Per forza. Sono molto piccoli, anche se puoi sfruttarli molto bene. C'è l'antincendio è normale. Per forza! Apri apri la mia parte. Mi hai caricato a salve, bro. A mio parere, è un po' più ordinata della mia. Qua ci sono le giacche. Qua ci sono le varie buste con i souvenir. Suvenir. Suvenir. Che te ridi, mangacar, che te ridi? Sono souvenir suoi. I vari aspetti che abbiamo fatto. Poi qua invece teniamo i panni, i vestiti che vanno lavati, insomma. Qua non so nemmeno... Ok, pur i vestiti sporchi ci fai vedere. Lusilla, basta! Cioè, ci hai fatto vedere un armadio. Ho capito, ci tieni i vestiti dentro. A posto. Vai avanti. Esploriamo casa. Non ho bisogno di vedere la tua biancheria. O forse sì. Cosa c'è dentro? Penso mutare. Perché è tutto organizzato perfettamente. Per quello... Allora, diciamo che spesso, soprattutto nei italiani, ci spaventiamo quando vediamo queste piccole dimensioni negli appartamenti. Perché vi ripeto, questo è 25 metri quadri. Io e Luca siamo stati anche in appartamenti di 15 metri quadri. Perché dillo, Lusilla, dillo. Non contano le dimensioni, ma come lo si usa lo spazio all'interno di una casa. Bob, se hai detto per forza, sei giovane e giovane. Hai visto? Ha detto le ciance. 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 No, non ha fatto a Samarra quel gran topo. Lo so che sei abituato a vederla che fa a Samarra, ma sta facendo vedere il suo cazzo di armadio nel suo cazzo di appartamento da 25 metri quadri. e ci sta dicendo, non è importante la dimensione, ma come si usa. Anche meno, credo. Anche meno, anche meno. Più piccolo è, più ci puoi giocare. Devi diventare creativo. Giustamente. 12 metri quadri. E ci spaventiamo. 12 metri quadri. Cioè, che cas'è? Un sgabuzzino, praticamente. 12 metri quadri. Hai capito, Giulia? Poi tu lamenti che noi stiamo in una casa piccola. Non siamo abituati a queste dimensioni. Però con il tempo... Questi c'hanno i soldi! E vanno nei buchi di merda. Capito? Capito. 12 metri. No, buchi bellissimi. Mi disse, è proprio delizioso questo appartementino di 25 metri quadri. I quadri è troppo anche per me. Cioè, io stavo scendo di terzo, non potevo spostare, non potevo fare niente. Già su una ventina di metri quadri come questo appartamento, già onestamente sto bene, mi sento con i miei spazi, eccetera. Sento che sto bloccata nei posti giusti. Mangaka, sai come sta godendo a giocare tipo ai film porno categoria stack, sai, dove lei è incastrata e arriva lui da dietro. E finge tipo lo stupro, eh. Quella roba disgustosa là. Ecco, categoria stack di Lucilla Giggly. L'appartamento è troppo piccolo. Oh no! Sono rimasta incastrata qui, dietro al divano, col culo a 90. Come si fa? Come si fa? Aiuto! Aiuto! Posso vedere la cucina? Non è il massimo della bellezza, ok? Non c'è la finestra, non c'è nulla. Non c'è un cazzo. I giapponesi non è che cucinano tanto a casa. Quindi non serve manco la cucina, va bene. I giapponesi mangiano fuori. Punto primo, perché non è così costoso mangiare fuori. Oppure, molto comune per i giapponesi acquistare cibi già pronti nei kombini. Che sono i kombini? Mini supermarket come riso al curry, onigiri e spiedini eccetera. Quindi mangiano proprio fast food, just eat tutto il giorno. Bob ti libero. Scusami che quando dici libero mi sono liberato. Un mogliono di fame, no? È tutto just eat. I soldi che non spendo, hai capito? Li faccio tutti di cibi fronti. Fuori nel senso, puoi mangiare un primo, una zuppa di miso, spendendo veramente cifre ridicole. Quindi il giapponese medio non è molto abituato a sfruttare la cucina. Infatti se lo vedete, qua c'è un fornello a induzione ed è unico. Ce n'è uno soltanto, io in Italia ne ho quattro di fornello. Cioè come cazzo fai con un solo fornello? Non puoi fare manco una pasta. Almeno due. Uno è proprio da campeggio, che c'è cibo da riscaldare e basta. Uno è inutile. A che serve? Puoi fare una zuppa, puoi fare. È pasta. Il caffè ci puoi fare. Fornelli, no? E solitamente ne uso anche tre insieme. Qua vabbè c'è il lavandino con questa bellissima bocce di detersivo. Poi qua abbiamo un angolino molto ordinato, dobbiamo mettere, con un mini aspirapolvere. Ecco, guardate come è carino. È mini perché l'appartamento è mini mini. Un angolino sì, con la classica presa giapponese. La presa giapponese! Ma ecco, se andate in Giappone, mi raccomando, io vi consiglio per tempo di acquistare un adattatore perché ovviamente è diversa la spina rispetto alla nostra. Giusto, giusto. Adattatori forever. E qua ci sono i cestini dell'immondizia. Sono molto piccoli, come vedete. Perché piccolo è l'appartamento, piccolo è l'immondizia. Questo problema dell'immondizia in generale, ti portate fuori, dovrete avere con voi un sacchettino perché è molto difficile trovare i cestini dell'immondizia in giro. Vi dico, la loro raccolta... E quindi te la porti a casa? Fammi capire. Te la porti a casa. La speranza è molto particolare, non è proprio intuitiva da capire. Sta scritto in quella lingua laica, come si chiamano i kanji, per questo non si capisce. Mannaccia, mannaccia. Qua mettete lattine, bottiglie di vetro e bottiglie di plastica, solo questo. Qua in combustibile, quindi ci mettete piatti di plastica posate, eccetera. E qua combustibile, quindi cose... Quindi loro dividono le cose da se può bruciare e non se può bruciare. Bello! Bello! Perfetto per i piromani! Bello il Giappone! Possono essere infiammabili, come ad esempio la carta, ovviamente. Adesso vi faccio vedere... Sì, quella lingua dei segni strani l'ha scritto, esatto. Ovviamente vuoto, non abbiamo nulla. E invece qua abbiamo un frigo che, attenzione, per gli standard giapponesi... Cioè, non serve un cazzo il frigo praticamente, non c'hai modo di cucinare, Non c'hai modo di scardare una roba. Che ce l'ha a fare il frigo? E spazio in più! Lucilla! Bisogna essere smart! Siamo in Giappone qua! Potevi farci un altro armadio in quel frigo! Eh? Eh? Ci hai pensato? Ci hai pensato? Dovresti pensarci. Eh sì, non è così piccolo. Nel senso, io e Luca abbiamo avuto a che fare con frigoriferi veramente minuscoli. Proprio tipo così. Sì, ma se ce l'hai voto, che cazzo te serve che ce l'hai pure il frigorifero? Che meraviglia! Che ordine! Wow! Sembra il mio frigo! A banana, due yogurt, maionese... C'è tutto, c'è tutto, a posto. Tutto il frigorifero, seriamente ragazzi. Io e Luca mangiamo cose sempre fuori perché è molto più economico e non hai lo sbatti per cucinare. Poi vabbè, qua ci sono i vari medicinali. Qua c'è... I medicinali in frigo. Che cazzo c'hai Lucilla là? La siringa di adrenalina, sai? Quella là come in Pulp Fission, sai? Deve bucare all'esterno! Devo fare il buco! Immagini tu e Mangaga che giocano a Pulp Fission. Mmm, tachipirina con i fagioli. Buona! Buona la tachipirina con i fagioli. ...c'è, vi danno due confezioni a tipo 3 euro e vi dirò la verità. Ma dai! Certo, non è buono come il San Daniele che mangia... No! ...siamo in Italia, non fa nemmeno schifo. A me... Dai! Dai! Bella! Bella per te, Lucilla! C'hai pure il San Daniele, però che non è San Daniele. 3 euro, raga! Io direi che è tempo di andare in Giappone. Vedi? Dico, questa faccia, Lucilla, ce lo dice. ...piace. A me sembra più che accettabile. Poi qua abbiamo uno Yakult. Fa molto bene al pancino. Yakult! ...cino. Questi sono gli yogurt proteici di Luca, che sanno di schifo. Di merda! ...puccioso, eh! Qua abbiamo... Eh, c'ha pure il package molto puccioso. ...puccioso, 100% mela. Abbiamo un altro... Ah, è il succo di solto. ...indovinate di chi è, con 15 grammi di proteine. Ovviamente... Tu sei secco, secco! Eh! Poretta, poretta. Dai, Lucilla. C'hai ragione. Faccio il tifo per te. Mettiamo all'ingrasso mangaka. Mettiamo all'ingrasso mangaka. Secondo me, in realtà, lei sta solo odiando vivere in Giappone e non vede l'ora di tornare. Quindi, Rottotei, tu stai dicendo che probabilmente è schiavizzata da mangaka? Cioè, è costretta a stare lì in quell'appartamento. Mangaka non è un tortello, mi sa. In teoria dovrebbe essere il ripieno di quei tortelli, no? Il tortellone. Il raviolone. Bob, ti va di andare in Giappone a rapire mangaka? Mi dissocio con qualsiasi atto criminale da fare verso questi due. Limitiamoci alla reaction. Mi sento in colpa con tutto quello che ho mangiato. Eh! Vedi? Vedi? Sentiti in colpa. Dovresti andare in Giappone, Jenny. E risolvi tutto. Il raviolone mio. Attenzione, ragazzi. Attenzione! Attenzione! Attenzione, perché in Giappone è tutto super zuccherato. Oh no! E adesso? Tanto in tanto prendiamo anche robe totalmente privie di zucchero, come questo yogurt, perché sul serio in Giappone abbondano tantissimo. No, no, ma... Mi manca la parola. Hai ragione. Come... Quella... Mi ha torto il fiato. Mi ha torto il fiato questa notizia. Non so come fanno i giapponesi a vivere con tutto quello zucchero. Mio Dio! Oddio! Come si fa? Come si fa? Ma come si fa? È finita. È finita. Guardala, guardala lei. Lei pure ha quella sensazione di smarrimento. Con lo zucchero forse anche troppo. Qua abbiamo le bananine, che sono tra le poche, diciamo... Bananine. Vedi come gli piace prendere tutte le cose piccoline? Secondo me qua ci sta dicendo qualcosa, però. Perché non è possibile che l'unica cosa che potresti tenere grande, perché in quel frigo non c'è un cazzo di niente, te la vai a pigliare piccoli. Le bananine. Perché ti pigli la bananina? Pigliati la banana normale. No. La bananona magari, proprio perché c'hai più spazio. Dici, mi piglia... No. La bananina. E il cestino. E l'appartamentino. Mangaka. Mangaka, questa ragazza la stai abituando a degli standard un po' bassi, non lo so, non lo so. È colpa di mangaka, è tutta colpa di mangaka. Vogliamo l'usilla libera di fare l'Hollyfans senza che la spiano dei pervertiti dal primo piano. Tipologie di frutta che non costano un rene, perché in Giappone vi faccio un esempio. Se prendete 5 fragole spendete spesso e volentieri 5 euro, ok? La frutta è molto costosa in Giappone. E sono molto più dolci delle fragole italiane, però. Benissimo. Ma aiutiamo i giapponesi per togliere lo zucchero. Togliamo lo zucchero dal Giappone. Anche il frigo è zuccherato. È tutto zucchero, è tutto kawaii. È tutto un... Wow! Cioè le fragole costano un botto, però a livello di sapore sono molto dolci, molto buone, diciamo. Ecco perché, vedete, questa cosa ci sta insegnando una grande lezione di lore, Lucia Gigli, e l'ha fatto, secondo me, il video è di tre settimane fa, quindi non era mai nota la morte del nostro autore preferito, Akira Toriyama. Perché ha fatto questa citazione alle fragole che costano molto? Perché se vi ricordate, il primo Dragon Ball, all'inizio, Bulma, il desiderio che voleva esprimere con le sfere del drago era una fornitura vita di fragole. Io ho già pensato al desiderio che esprimerò. Le fragole sono il mio frutto preferito e sono tentata di chiedere quelle. Che noi da piccolini, stupidi italiani di merda, che vivono in un occidente dove tutto ti è dovuto perché ce l'è a supermercato e quindi abbiamo schiavizzato e colonizzato il resto del mondo per avere le fragole tutto l'anno, in Giappone non è così. È per questo che voleva esprimere quel cazzo di desiderio, Bulma. Aveva un perché e adesso, grazie all'usilla, vedete, siamo arrivati a comprendere la lore di Dragon Ball. L'avreste mai detto? La mia casa a Tokyo, 25 metri quadri, Lucia Ghigli vi spiegava un motivo di lore di Dragon Ball. No? Sono sicuro che la maggior parte di voi non ci ha capito un cazzo. Mentre invece le fragole in Italia, almeno io quando le prendo, non c'è di acqua, non c'è di niente. Tutto collegato, Bob. Sì, sì, sì. L'abbiamo capito io e te il collegamento. Pane da tosto. È tutto collegato, c'hai ragione. È tutto collegato. L'abbiamo capito solo io e te, infatti. E gli altri stanno zitti, non hanno capito. Non hanno capito che Dragon Ball è così. Ho capito fette molto spesse, ma la cosa che mi pare assurda è che una di queste fette ha ben 168 kilocalorie, ragazzi. Cosa? Cosa? 168 kilorie! Calorie, no kilorie. Ha detto kilorie? Io ho sentito kilorie. La di queste fette ha ben 168 kilocalorie, ragazzi. Ah, è kilocalorie! Quindi sono ancora più cattivi! Sono le kilocalorie! Cazzo! Ma guarda come lo dice convinto! Queste fette ha ben 168 kilocalorie, ragazzi. Cioè, io sono esterefatto, Lusilla, sono esterefatto. Non riesco a capire come è possibile una cosa del genere. È assurdo! È assurdo! Giappone, veramente, mangiano del cibo molto calorico e nonostante il cibo tipo questo manfezionato. Sì, ma magari ne mangiano una fetta. Esatto! Nel senso, non pensate che in Giappone, oddio, si, mangi il cibo è tutto sano. No, semplicemente, solitamente un giapponese mangia molto meno, ad esempio, fette acqua. Ah, quindi se scofano come noi in Italia, eh, capì? Loro una fetta se mangiano, non come noi che ci facciamo i toast uno sopra l'altro. No! Una sola! Basta e avanza per 50 giorni! Ti mangio io! Io di queste fette di pane me le posso mangiare anche due o tre in un giorno. Un giapponese, se vede che ci sono sei fette di pane, magari ne mangia una al giorno. Ah, solo una al giorno! Ma come? 168 diozebbo 89! Quante! Zitto mangaka! Anche a te dà fastidio mangaka, è vero? Cioè, sta lì che già costretto sta ragazza a vivere praticamente un buco di culo contro la sua volontà e sta facendo di tutto per dircelo, effettivamente. Con questo video ce lo sta dicendo, secondo me. Guarda, sta facendo il segno, ragazza, sta facendo il segno di che chiede aiuto. Dovremmo chiamare la polizia. Forse è tempo di chiamare la polizia. Guarda, guarda, sta facendo quel segno là. Aiutatemi, ragazzi, aiutate. Mangaka mi ha costretto a stare in Giappone. Oh no! Non voglio stare in Giappone, voglio stare nelle piscine grandi quanto sta casa. Non lo so, è una roba così. Qua abbiamo il miamato tè matcha in polvere, è la cosa più deliziosa di questo mondo. Tè matcha! Vari biscotti e patatine. E adesso vi faccio vedere il bagno. Che, attenzione, il bagno in Giappone è molto piccolo. Ma dai, davvero! Io mi sarei aspettato un bagno con l'idromassaggio minimo. Sti 25 metri i quadri, come li sfruttiamo? Se no, Lucillona. Molto piccolo, non ha quasi mai le finestre. Quindi sai che puzza di merda che c'è dentro? Per me questo inizio è stato un po' difficile da accettare, diciamo. Eh, ci credo! Dicevo, non volevo fare una critica al colore dei suoi capelli, ma la vedevo un poco più sbiadita del solito Lucillona. Forse è per questo che mi sembra da un po' Flavia bene. Mi mai ricordavo più roscia prima. Invece no, è un po' sbiadita. Si vede che questo Giappone la sta cambiando, la sta mutando nella mente e nel colore. Tutto piccolo come il mio pen. Non volevo dire... Non è vero, che stai dicendo, quel gran topo? Dissociamoci, non è vero. Il mangaka ha una sberla di questa maniera, se no, come si spiega? È l'unica. Però in compenso a tutte le comunità possibili. Adesso vi faccio vedere, ovviamente... c'è pure il bidet, eh? No, dai, dimmi che ci sta. Dimmi che ci sta quella piscinetta che ti spruzza l'acqua in culo in automatico. Ti prego, ti prego, voglio, voglio il water giapponese più tamarro che c'è. Che tu apri la porta, adesso si accende la lucina e fa... Così, col gatto che fa pure così e tu lo guardi e caghi. Io voglio quello. famoso gabinetto giapponese. Vai! Già non ci sono led, quindi le mie aspettative si stanno abbassando molto. Qua ci sono gli asciugamani, qua invece ci sono tutte le mie... cacillona, però va avanti, cioè se non descrivere ogni cazzata che vedi in casa... Diciamo creme, trassieri, eccetera... Sì, ok... Spando, ma lo devo dire, io questo l'ho comprato qua in Giappone pochi giorni fa... Prodotto in Corea... È abbastanza costoso... Come si chiama? Cioè, lo vuoi sponsorizzare, ma non lo sponsorizza, Lusilla! Ed... Però funziona davvero meraviglioso... Meno male che funziona, sono contento per te... Vi dico che in Giappone, in generale, se siete amanti della skincare, eccetera, è il paradiso, per voi. Comunque qua ci sono tutti... L'ha detto, ma si è toccata il braccio, come a dire... Non lo so che sto dicendo una cazzata... Guarda, guarda, guarda... In generale, se siete amanti della skincare, eccetera, è il paradiso, per voi. Guarda, guarda, guarda... Si è grattato il braccio, mentre l'ha detto... Si è grattato il braccio, come... Il ricordo di qualche crema che è andata male... Le ha fatto un brutto effetto sulla pelle... Io sono convinto... Cioè, questi sono tutti segnali... E comunque si vede pure quello stronzo di mangaka... Guarda, guarda... Sta nel riflesso dello specchio... Guardalo... Guardalo... Maledetto... Ci stai negando l'usillona... Niente led... Infatti sì... Che peccato... Ma questo descrive anche le calorie dei preservativi... Beh, se sono quelli là che si magnano, sì... Li faranno in Giappone... I preservativi... Che sono... Digeribili, no? Sapevi? Quelli là che si magnano... Saranno sicuramente zuccheratissimi... E belli carichi di calorie... Così ci ha insegnato l'usillona... Comunque... Non lo sapevi quel gran top... Non sai che esistono i preservativi che si magnano? Esistono... Esistono anche le mutandine che si magnano... O forse era quello... E sto sconfondendo le cose... Non li cerco... Pre... Ser... Servativi... Masticabili... Vai... Pure Amazon... Quindi stiamo facendo pubblicità a un prodotto di Amazon... Twitch... Non mi puoi bannare... Bubble Gum... Premium Condom... Tie... Skins... Questo... Questo... Lo usi... E praticamente dopo ci fai pure il palloncino... Tipo... Bubble Gum... È bellissimo... È be... Tutto soddisfatto... Per strada... Sto palloncino pieno di sperma... Molto divertente da usare... Insieme alla propria compagna... Sì... Compriamoli tutti insieme... Ci sono tutte le mie cose... Qua ci sono quelle di Luca... Cioè... Guardate... La differenza... Maledetto Luca... Di merda... Vuole per forza appoggiare le sue robe qua... Non ha capito chi comanda... Eh... Qua ci sono tutti asciugamani... Qua c'è lo specchio che... In questa zona... In questa parte... È bollente... Perché sono lì? Perché sono lì? C'è il diavolo? C'è... Secondo me... C'è il diavolo... Lo specchio... E tutto torna... C'è il diavolo... C'è il portale per l'inferno... Lucillona... La prima volta che ho visto questi specchi in Giappone... Nei bagni... Te sei cagata sotto... Di la verità... Perché hai visto il calore lì... E hai detto... Oh cazzo... C'è il diavolo... Caldi... Mi sono spaventata... Ma che succede? Eh... Eh... Che succede? Qualcosa non funziona... Non so... Sta per esplodere qualcosa... Eeeh... Ovviamente ragazzi... È voluto... Serve appunto... Per non far appannare... Questa parte del vetro... Quindi è molto comodo... Però... Se una persona non lo sa... Magari rimane un po' stranita... C'è... Hanno lo specchio... Pre riscaldato... Per non farlo appannare... Giustamente... Non c'è un cazzo di finestra... Non c'è un filo d'aria... Quindi c'è... Odore di merda... Riscaldata... Perfetto... Evviva il Giappone... Bellissimo... Si è cagata sotto... Perché dietro c'è la mangaka... Poi abbiamo il meraviglioso gabinetto giapponese... Ragazzi... Che una volta provato... Dai... Dai... Facci vedere... Voglio vedere... Lo spruzzetto... Dai... Non ci sono i led... Non ci sta la musichetta... A meno lo spruzzetto magico... Di questa cosa... Voglio sapere se è vero o no... Che eccesso che c'è in Giappone... Eccesso e bidet... Tutto incluso... Dai... Fata questo mito... Lucillona... Quando tornate in Italia... Vi sentite proprio vuoti... Perché... Vi sentite vuoti... In Italia... Perché lì riesci a cagare... Invece qui... E' come se ci avessi tutto addosso... E quindi... Caghi... Ma ti sembra... Ancora di stare nella merda... Invece in Italia... Sei svuotato... E... E' veramente... Comodissimo... Eh... La ciambella è sempre calda... Aaaaah... Vi svegliate... E appoggiate le chiappozze... Sentite quel freddo... E' il... Eh... Ragazzi... Vi appoggiate ed è una godura... Perché... Che bello... Chiaparrostite... E tutti caldi... Tutti rilassati... Ti metti qua... Nel gabinetto... Nel chill... Rilassato... O rilassata... Nel chill... Nel chill... Chill water... Yeah... Fai i tuoi bisogni... Se fai il bisogno quello strong... Ehm... Premi questo... Qua regoli la potenza... Io vi consiglio sempre di mettere una potenza molto bassa... Ragazzi... Una volta... Una volta... Sparato... Sto spruzzo in culo... E... E' volata via dalla tavola... Ti immagini... Fuuu... Fshua... Non so da chi... La potenza massima... E mi sono praticamente... Distrutta... Quindi... Si è... E' stata violata dal proprio gabinetto... Lusilla... Maledetta... No... Non so... Voglio vedere... Mangaka che cada... Oh no... Voglio vederla però... Sto oggetto... Lo voglio vedere... Dai... Facci... Fare una prova... Lusillona... Pure senza che... Ti metti tu... Voglio solo vedere il getto... Fammi immaginare... Dove te la spruzza l'acquetta... Assolutamente... Mettete sempre la potenza abbastanza bassa... Questo è per il culetto... E questo è per le signorine... Per la patatina... Consiglio... E anche per i... C'è... Lo spruzzetto per la patata... E lo spruzzetto per il culo... Ma che bello... Aspetta... Cioè... Mangaka che... Devi stare zitto... Io uso sempre quello per le signorine... Lo sapevo... Lo sapevi... Sei una cazzo di signorina... Brutto... E' vero Mangaka... Stiamo solo scherzando... E' una reaction... Ti vogliamo bene... Che stai dicendo? Il getto... E' più largo... Ed è più comodo... E' più largo... Ma guarda... Pure lei... E' stupito... Che cazzo stai dicendo? Ma se ne... Ma che cazzo fai? Che stai dicendo? Il getto... E' più largo... Ed è più comodo... Che stai dicendo? Questo ragazzi... Se lo siete al massimo... Taglia proprio... Taglia... 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 Come quello per le signorine... Eh... Però le signorine... Non ti pulisce bene il culetto... Sì sì sì... Basta che alzi la potere... Pulisce tutto... Va bene... Insomma... Quindi usa... Quella per la patatina... Per fare una spruzzata unica... C'hai pure il culo che sta di merda... Mangaka... Le stai... Confessa tu... Eh... Come fai a pulirti il culo... Se c'hai... Significa che non c'è... Resistenza... Se ti arriva l'acquetta pure dietro... No? Non c'è niente davanti... O è molto... Fic... Poco... L'ostruzione che c'è da... Eh... Mangaka... Dai... Non abbiate paura solo perché vedete... Comunque ecco... Eh... Non abbiate paura... Eh... Se ce l'avete piccolo come... Mmm... Entro nella live e becco i cesti giapponesi... Hai visto Kiki? Che bella... Che bella storia... Oggi stiamo in reaction time... Bob se andiamo in Giappone solo per i gabinetti... Ti va? Eh... Ci vorrei andare in Giappone un giorno... Mi farebbe piacere andarci in Giappone... Chi è? Rispetti le donne! Sempre... Sempre rispettiamo le donne... Infatti qua nessuno sta dicendo che Lusilla... Eh... C'ha le poppone e tutto... Stiamo... Pensando solamente... A... Eh... Come... E all'utilità di... Del cesso giapponese... E dei suoi spruzzi magici... Io sognerei con sta roba... Qui in Francia non c'è manco il bidet... Vedi... Vedi... Ognuno ha i suoi problemi... In ogni nazione diversa... Effettivamente... Ritorniamo a parlare di... Acquetta spruzzata... Nelle parti intime... Nel cesso giapponesi... È molto comodo... Cioè in Giappone non c'è il bidet... Ovviamente... Potete usare questo... Che è considerato un bidet... Poi quando avete fatto tutto... Capito... Francesi... Imparate... Non volete il bidet... A meno metteteci l'acquetta nel cesso... Con i vari getti... E con le varie combinazioni... E potenze soprattutto... O verso il basso... O verso il basso... Cioè c'è lo scarico... Grande... Se tirate... Vedete... Grande verso il basso... Piccolo qua verso l'alto... E... E poi qua c'è la doccia... Che è ovviamente... Me l'ha detto sconsolata... C'è la doccia... Guarda... 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 E poi qua c'è la doccia... Cioè... Ha passato lo sguardo... Proprio... Ma sì... Purtroppo... È... Questa... È la doccia... Sì... Sai com'è... È ovviamente... Piccolina... Cioè nel senso tipo... Luca... Che è molto alto... Ma... Esatto... Ma... Ecco capito... Perché... Ah... Mangaka... Eccolo qui... Il nostro eroe... Luca... Sei troppo alto... La doccia... Mannaggia alla miseria... Eccolo... Dottor Eggman... Cazzo è vero... È Eggman di Sonic... È lui... Mangaka... Dottor Eggman... È lui... È lui... Il stesso buff... Il stesso chiamo... Il pelo... Cioè adesso io... Non so se si vede... Ma in realtà quando passo... Sbatto sempre... Sono molto piccole le vasche... Però... Insomma... Generalmente... Tipo io che sono alta... Un metro e sessantanove... Non ho... Non ho problemi... Alla faccia... Un metro e sessantanove... Che stallona... Però... Vedete... Tipo... Io sbatto solo nell'areatore qua... Perché... Sbatte nell'areatore... Che significa... Areatore! L'areatore è lì... Questa è leggermente rialzata... E quindi... La mia testa è sempre là... Qua... Sto al pelo... Come vedete... Se si fa rollo... Madonna mia... Mangaka... Cambia casa... Porco Giuda... Ok? Sono bassi... I giapponesi... Ma così... È una tortura... Io no... Io soffrirei tantissimo... Porco Giuda... Ma come fai a dire... Questo è il mio bagno... Boom! Capata nel tetto... È assurdo... Proprio... Un capello... Però qui... È un centimetro... Rialzato... E quindi... Vabbè... Ma sei alto... Vabbè... I giapponesi sono piccoli... Ma almeno negli hotel... Potrebbero mettere bagni... Alla portata di tutti... Poveri turisti... Ma penso Kiki... Che questo sia proprio... Il loro appartamento... Non è... Un hotel... Da quello che so... Mangaka e Lusillona... Si sono trasferiti in Giappone... È proprio il loro appartamento... Stiamo parlando del loro appartamento... È ancora peggio... Te lo sei scelto... Paghi l'affitto... E stai in questa roba qua... Solo questo mi mette un'ansia... Ma cazzo... Sì che c'ha un'ansia... Avere il soffitto qua... Dentro stanno soffrendo... Questi due si lasciano... Mmm... Chissà perché... Tutto internet... Sa che... Primo o poi succederà... Forse solo Mangaka... Non lo sa... Che pure Lusillona... Secondo me lo sa... Benissimo... Benissimo... Però... Ci sarà un motivo... Se Mangaka se ne è scappato in Giappone... E se l'è portata dietro... Dire così non me la ruba nessuno... Ha 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 ha... Ma... Boh... Boh... No non è vero... Facciamo il tifo... Mangaka e Lusillona... Nuovi Ferragnez... Sarco un po' rialzato... Però senza i guai finanziari... Dei Ferragnez... Senza il cancro a lui... Senza che... Scammano per truffalei... Solo le cose positive... Dei Ferragnez... Quindi popolarità... Soldi e fama... Yeah... Diciamo la verità... Non ha i cattari piatti... Ah questo ovviamente... Il divanino... Tra iersi nel CIL... Grazie Lusillona... Grazie... Adesso sappiamo... Come sdragliarsi nel CIL... Vedete... Proprio così... Con la schiena storta... Eh... E' proprio CIL... CIL... Ah... CILissimo... Che meraviglia... Questo è il divano a mezze maniche... Se non stai inclinato così... Non ti appoggi... Ti appoggi qua... Ti appoggi a metà schiena... Poi il collo... Se a cazzo... E' a mezze maniche... E' a mezze maniche... Pure il divano è piccolo... Troppo... E adesso... Le persone che passano... Bello... E nulla miei cari... Questa è la scrivania... Con questo sgabellino molto... Che cazzo è quel coso... Ma... Quella è la tua sedia... Ma che è? E' la scala infinite di Escher... Che sono? Non è uno sgabello... Lusilla... E' un'opera d'arte... Particolare... A me personalmente... Questo mini appartamento... Madonna che tristezza... La scrivania pure... Il appartamento è il mio preferito in assoluto... Io sono stata in Giappone anche l'anno scorso per un mese e mezzo... Quest'anno ci starò quasi tre mesi... E vi posso dire che per adesso... Questo appartamento è quello che preferisco a livello di comunità... Posizione... Perché molti dicevano la stazione... Luce... Organizzazione degli spazi... Veramente sono tanto contenta... Noi tra una... Non mi sembra lo sia... Perché solo a me sembra che non sia contenta... Sono... Tanto contenta... Guarda come lo dice... Luce... Organizzazione degli spazi... Veramente sono tanto contenta... Tanto contenta... Fa un'espressione del viso proprio... Tanto contenta... Guardate... Luce... Organizzazione degli spazi... Veramente sono tanto contenta... E vi... No... Devo chiappare il frame giusto... Luce... Organizzazione degli spazi... Veramente sono tanto contenta... Ah... S'è visto però... La stazione... Luce... Organizzazione degli spazi... No... Devo... Aspetta... Devo fermarlo... Devo trovarlo... Il frame è esatto... Perché c'è... Proprio una microespressione che fa... Guarda... No... Troppo... Troppo in là ho messo... Aspetta... Lo ho acchiappato bene... No... Così... No... Così... Dai... No... Tanto contenta... Noi... 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 Sembra ubriaca... Sembra ubriaca... No... Si è bloccato tutto... Mi sembra l'espressione di uno... Contento di dirlo... Dai... Non mi sembra veramente felice... Lusilla... Si onesta... Dai... Finemmo comunque ha detto... In mezzo a tutta la merda che ci sta in Giappone... Questo è stato il migliore... Della serie proprio... Vabbè... È meglio di niente... La settimana andremo a Kyoto... Ti farò vedere anche la differenza che c'è tra un appartamento a Tokyo... Quindi la grande capitale del Giappone... E invece un appartamento a Kyoto... E comunque certo ovviamente è un'altra città importantissima del Giappone... Ma è ben differente da Tokyo... Sia a livello estetico... Perché è molto più tradizionale... Nell'architettura eccetera... Ma anche per quanto riguarda gli spazi... E soprattutto... Tipo andare a Roma e a Milano praticamente... Sì... Perché Kyoto è sicuramente più economica rispetto a Tokyo... Quindi nulla... Vi ringrazio per la visione... Ringrazio Luca per aver fatto la... Videomaker... Ci vediamo presto... Ciao Tartellotti... Dove gliel'hai messo quel pollice? Luca per aver fatto la... Videomaker... Guarda... Guarda... Perché gli hai messo il pollice proprio là... Brutto... Pervertito... Non doveva essere un videoporno questo... Eh... Eh... Guarda... Guarda... Sembra che ce l'ha così sul mento... Eh... Guarda... Guarda... Schiavo è padrone... Guarda... Schiavo è patriarcato... Patriarcato... E ci vediamo presto... Ciao Tartellotti... Ciao Tartellona... Ciao Lucillona... Grazie mille per questo escursion... Sul Giappone... Ci sentiamo un po' tutti più acculturati... Eh... Topolonis deve andare... Ciao a tutti... Fate i bravi... Ciao Tartellotti... Ciao quel gran Tartellotto... Ormai sei il mio Tartellotto preferito... Io direi... Di uscire dalla reaction time... Con lo spettica... Passi... Grazie mille per il mio Tartellotto... Grazie mille per il mio Tartellotto... Grazie mille per il mio Tartellotto...